Dai, dai, però lo devi spingere, non devi capire, non devi capire, invece devi fare, ho questo e poi lo devi spingere, spingere via e vai in via, ok, e, bravo, e muoviti anche in via, esatto, questo, 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 ecco, vai in comando di terra, quando le pecore fai come abbiamo fatto, mettetele là, vieni qua, non le faccio, non le faccio, non le faccio, ma controlla, vieni qua, vieni qua, vieni qua, condusci, condusci, siamo a noi, vi chieda, vieni, grazie.